Uova con la sorpresa, taraglia l'uovo con la glassa, colomba, a Pasqua è un tripudio di dolci, di tutte le fattezze, come questo coniglio pasquale con cioccolato e oro a 32 carati in polvere e per tutti i gusti e parliamo soprattutto di cioccolato, bianco a latte, fondente, decorato o no. È fondamentale il fatto che i prodotti in tavola siano artigianali e la qualità degli ingredienti, non semplice lievito ma lievito madre, non semplice decorazione ma pura arte. Questi fiori sono in zucchero, sì, pasta di zucchero e zucchero, fecola di patate, gelatina in fogli e acqua. Ma a cosa è dovuto questo brillantino che vedo perché il cioccolato luccica? A cosa è dovuto? Allora sono dei coloranti alimentari che facilitano se vogliamo l'aspetto lucente a tutto quello che poi fa un gioco di ombre e luce sul già lucido del cioccolato sinonimo di una buona cristallizzazione del cioccolato e dell'utilizzo di ottimo cioccolato puro. Quindi il cioccolato buono deve essere lucido? Assolutamente sì, direi proprio di sì perché la buona cristallizzazione, quindi la perfetta fusione della materia, quindi del cioccolato, l'ottima qualità del cioccolato minimo 70% come in questo caso utilizzato, quindi la fusione, il raffreddamento e la giusta temperatura di lavorazione fa sì che avviene appunto la cristallizzazione completa del cioccolato che dà lucentezza, però per anche degli stampi in policarbonato e per effetto fisico della riduzione del 2% del cioccolato dallo stampo viene via la parte lucida di riflesso del cioccolato. Senta ma la lavorazione cambia se stiamo usando il cioccolato fondente e il cioccolato al latte? Allora tutto il cioccolato non va sciolto, erroneamente si dice si scioglie il cioccolato, no il cioccolato va portato a fusione 46 gradi, quindi tutte le molecole di burro di cacao devono perfettamente sciogliersi per poi quello che facciamo a casa noi è sbagliatissimo. Sì perché tendenzialmente lo sciogliamo e basta. Invece va perfettamente fuso in modo che tutte le molecole di burro di cacao si sciolgono assieme per poi raffreddare a 29 gradi, quindi da 46 uno shock termico che va a 29 gradi per poi portare una temperatura di lavorazione che è di 31 gradi.